Se hai cliccato questo video probabilmente anche tu stai cercando un modo per migliorare le tue fotografie oppure sei solamente curioso di vedere che fotografie mi hanno sottoposto i miei iscritti. Sì, perché dovete sapere che in questi contenuti io vado a esaminare e commentare le fotografie che mi mandate proprio voi da casa. Per partecipare è semplicissimo, mi mandate un messaggio privato su Instagram con un link contenente le vostre foto su una piattaforma che permetta di tenerle lì a lungo perché non le guarderò immediatamente. L'ideale è Google Drive, Amazon Photos, Dropbox, quello che volete voi purché le immagini rimangano lì abbastanza da permettermi di esaminarle. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Qui su questo spazio di YouTube vi porto la mia esperienza in maniera tale che possa essere di beneficio per tutti. In questo format vado a commentare le vostre fotografie cercando di ricavarne qualcosa di costruttivo per tutti. Quindi difficilmente mi sentirete dire che le vostre foto fanno schifo così come difficilmente mi sentirete dire che le vostre foto sono dei capolavori. Andremo piuttosto a cercare di capire se io personalmente avrei fatto qualcosa in maniera diversa. E andiamo subito a incominciare ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Controllate perché molti di voi seguono i miei contenuti, commentano, chiacchieriamo e poi non sono iscritti. Andiamo a incominciare. Prima immagine. Mi sembra di capire che potrebbe essere un portfolio street. Ora una doverosa precisazione. A me la street non piace granché. Non mi piace il granché ma non perché io non ami la street. Io sono arrivato a non apprezzare più la street visto l'abuso estremo che se ne fa. Io vedo ogni fotografo, ogni sedicente fotografo che non è capace e che vuole darsi un tono, sbatte le sue foto in bianco e nero, le sue foto sono brutte a colori, rimangono brutte in bianco e nero. E questo fotografo si autoconvince di essere un artista della street e cerca di convincere anche gli altri e purtroppo spesso e volentieri ci riesce. Qui abbiamo una fotografia a colori quindi già siamo partiti con un piglio diverso perché non si cerca di sbattere tutto in cacciara mettendo subito il bianco e nero. In questa foto chiaramente secondo me la fa da padrone l'abbigliamento di questo, suppongo di questo ragazzo, a giudicare dalla corporatura. Come ben sapete io non disdegno la simmetria quindi mi piace il fatto che la foto sia simmetrica, le linee sono dritte quindi da quel punto di vista niente da dire, l'esposizione mi sembra buona. Mi dispiace che ci sia una profondità di campo così estesa, in una foto come questa io l'avrei vista molto meglio se la profondità di campo fosse stata più risicata e avesse abbracciato solamente il piede del nostro soggetto. Il piede di questa ragazza invece dall'altra parte non mi piace, io quello lo eliminerei in post se possibile. La fotografia non è male, l'uniche cose io avrei voluto vedere profondità di campo più sottile e non vorrei vedere quell'altro piede perché mi distrae ma per il resto è un'immagine che ci sta. Andiamo avanti, qui abbiamo questa scena di strada con questa signora che sta appoggiandosi a un trolley quindi è una foto che cerca di raccontarmi qualcosa. C'è questa signora che probabilmente è una turista e magari è stanca e sta aspettando a giudicare dall'abbigliamento o fa caldo e quindi probabilmente è estate. Non capisco dove ci troviamo. La fotografia sicuramente qualcosa mi racconta ed essendo stritta mi rendo conto che non si può pretendere la composizione perfetta. Io avrei cercato di tirare la signora un pochettino più a sinistra perché è proprio appiccicata al margine però mi rendo conto che per averla fatta di fretta è venuta pure bene. Fra l'altro la messa a fuoco è esattamente dove dovrebbe essere qui sì che vedo un po' di sfocato dietro mi piace di più questa rispetto a quella prima per quanto riguarda lo sfocato. Probabilmente non si poteva fare meglio di così perché appunto sarà stata una fotografia rubata fatta al volo e mi rendo anche conto che per essere stata fatta al volo l'esposizione è spettacolare perché abbiamo lei che è bianca lo sfondo che probabilmente è stata fatta in... Poi ne parleremo anche con l'autore se vorrà commentare. Secondo me questa è stata scattata in priorità di qualcosa con qualche automatismo. La macchina ha letto correttamente il centro dell'immagine ha esposto il centro dell'immagine e il bianco è ricaduto in una zona di esposizione dove comunque non abbiamo bianchi bruciati quindi secondo me ci sta. Continuo a pensare che non sia il mio genere la street però non me la sento di dire che non sia fatta bene. Andiamo avanti e questa io questa la lascio solamente perché c'è questa espressione curiosa di questa ragazza che sta probabilmente avendo un'interazione con questo signore. Di nuovo siamo street quindi siamo all'aperto qui abbiamo uno sfondo che diventa via via sempre più sfocato quindi mi sembra che abbiamo allungato la lunghezza focale qua. E a giudicare dalle bocche balls sullo sfondo questa potrebbe essere un'ottica fissa? Potrebbe. Secondo me è un'ottica fissa. Oppure stiamo scattando comunque a tiro a indovinare f2.8. Secondo me qui c'è uno sfocato molto più molto più bello e più gradevole rispetto a prima. L'esposizione ci sta forse a un pelino sottoesposta però di nuovo se stiamo facendo street è molto logico presumere che stiamo scattando in priorità. E' logico presumere o altro motivo perché a me la street non piace io amo fare tutto in manuale. Diciamo che questa foto non è fortissima non mi racconta chissà cosa l'interazione tra questi due personaggi può comunque valere lo scatto. Andiamo avanti io speravo di vedere qualcosa che mi contestualizzasse a questo punto che mi facesse capire. Allora questa secondo me può avere il suo senso però presenta anche un po' di problemi ovvero io capisco o credo comunque di intuire il gioco che ci voleva essere dietro ovvero abbiamo tagliato fuori le persone stiamo prendendo le loro ombre quindi in realtà è l'ombra di questa persona che mi deve raccontare qualcosa. Quindi abbiamo questo piedino alzato che è quasi una danza con quest'ombra con questo braccio sollevato non riesco a capire l'età delle persone però mi sembra di intuire l'obiettivo del nostro fotografo era questa rappresentazione un po' giocosa cose che secondo me non funzionano. Io la trovo mi risulta essere un po' sbilanciata perché la figura principale sono questi piedini. L'altra figura che abbiamo sulla destra che sembrerebbe essere un uomo adulto con i pantaloncini corti le calze e gli infradito credo che una cosa del genere stonerebbe in qualsiasi contesto cioè a parer mio e poi bacchettatemi magari voi amate gli infradito con i calzini secondo me non esiste un contesto dove uno può mettersi i calzini con gli infradito e andare in giro così per la città almeno io lo trovo è una cosa che mi stona mi darebbe fastidio in qualsiasi contesto io vedessi una cosa del genere. E in una foto come questa io avrei cercato di evitarlo questo qui e so che non è possibile però avrei comunque io guardate una foto così o piuttosto l'avrei rifilata verticale avrei preso soltanto i piedi di questa che suppongo sia una donna avrei preso solamente questa donna con i suoi piedi e il suo vestito e le calze con gli infradito le avrei completamente tagliate fuori. Io magari l'intento invece era proprio avere questa dualità con questa scena bizzarra che però comunque mi rimane un po' monca perché l'ombra della ragazza sta facendo qualcosa mentre l'ombra di questa persona con i calzini e infradito è un'ombra statica che non sta facendo niente quindi io l'avrei proprio tolta. Noto comunque che stiamo rimanendo sul colore una scelta che non mi dispiace considerato che io da non amante della street anche se evadiamo un po' i suoi canoni non sono certo dispiaciuto. Andiamo avanti e qui allora mi sembra di capire potrebbe essere la Toscana questa non lo so butto lì mi sembra di riconoscere questo pavimento qui abbiamo chiaramente una scena con dei turisti che si stanno muovendo rapidamente a me non fa impazzire questo tipo di scena perché perché questo tipo di scena mi rendo conto che c'è anche dietro l'idea di raccontare qualcosa però una scena di questo tipo messa lì così a me sembra veramente una cosa che vedo tutti i giorni e che letteralmente potrei uscire di casa e fare anch'io e questo a me è un po' disturba perché comunque se sto facendo fotografia anche se sto facendo street che a me comunque non piace non l'amo ma se mi dovessi mettere a fare street il mio intento sarebbe quello di uscire e cercare di raccontare qualcosa in maniera tale che la gente pensasse come hai fatto a farla questa io non saprei come farla non saprei da dove cominciare non riuscirei a farla questa veramente chiunque esce di casa anche con lo smartphone pum e la fa sotto casa in qualunque momento in qualunque contesto e quindi non riesco a emozionarmi con un'immagine di questo tipo lo capisco l'idea del movimento però a quel punto io avrei detto ok benissimo tre piede filtri e facciamoli sfocati facciamo la scia di queste persone che passano con la valigia allora sì e poi uno sfondo che valorizzasse un po' di più io questa probabilmente l'avrei fatta dal basso verso l'alto per far vedere cosa c'era dietro insomma questa sapete che io ogni tanto nella maggior parte dei portfolio devo bocciarvene qualcuna questa io la toglierei questa quella prima che proprio eliminerei definitivamente dal portfolio andiamo avanti questa mi piace di più qui c'è un gesto di saluto di questa persona che probabilmente forse conosce chi la sta fotografando fisionomia particolare quindi fotografia degna di nota questa secondo me in bianco e nero ci poteva stare un gran bene anche se mi rendo conto che comunque il colore fa la sua parte mi sto domandando se quella mezza scritta sulla saracinesca aggiunge qualcosa oppure se toglie io vi dirò che questa la vedrei bene anche rifilata verticale oppure in post produzione si potrebbe rimuovere quella scritta giusto per capire se aggiunge o toglie perché probabilmente bilancia l'immagine però mi domando se l'immagine potrebbe assumere un significato più forte essere più incentrata su di lei se non ci fosse quella scritta che peraltro non si capisce e ovviamente sempre solito discorso mi rendo conto che quando si fanno foto al volo è difficile comporre però è un peccato che c'è la fine dell'immagine che è proprio a pelo con la sua testa se ci fossero state due dita d'aria sopra e si poteva fare perché c'è spazio anche senza tagliarle le dita si poteva prendere un pelino di spazio in più mi rendo conto che probabilmente non è stato possibile per la fretta però io vi butto lì le cose che avrei fatto diversamente in un mondo ideale andiamo avanti questa non mi dispiace foto di un'edicola vediamo se riesco a capire dove siamo vernacoliere fiorentina sì secondo me siamo in toscana anzi io ho un mezzo sospetto che siamo a firenze poi vedremo se ho sbagliato questa allora l'immagine di per sé ci può anche stare a me sembra di vedere una vignettatura un po' forte a me non piace granché la vignettatura perché spesso e volentieri viene utilizzata in modo improprio e qui secondo me viene utilizzata per incorniciare questa edicola perché la foto non era abbastanza forte da sola almeno io ho questa sensazione secondo me se togliamo questa vignettatura mi diventa un po' piatta e quindi si poteva secondo me comporla in un altro modo magari avvicinandosi un po' di più magari aspettando un altro momento del giorno insomma ho questa sensazione di vignettatura un po' un po' applicata per correggere qualcosa che non funzionava e l'esposizione al centro è un po' è un po' forte probabilmente per controbilanciare questa vignettatura ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti non vi dico che non vada bene questa foto vi dico che ha qualcosa che non mi convince vediamo se trovate qualcosa che non vi convince anche voi andiamo avanti questa potrebbe essere la mia preferita per ora perché io da non amante della street appena ce n'è una che non è street pam quella è la mia preferita e questa mi piace questo è un ritratto con bel contrasto una bella separazione cromatica data da questo verde dietro bel ragazzone e questa questa probabilmente è la mia preferita per adesso e vi dico una cosa questa secondo me in bianco e nero spacca di brutto andiamo avanti sì sono sono abbastanza convinto che sia firenze ma poi magari sbaglio qui abbiamo una foto di suppongo un turista che scatta una fotografia col suo smartphone e indossa uno smart watch cosa che io assolutamente disapprovo ragazzi orologi solo meccanici la prospettiva mi piace l'idea mi piace molto il fatto che ci sia questo turista preso di infilata con dietro il portico bella ci sta mi piace devo dire anche la composizione ci sta è dritta quindi veramente non posso dire niente sulla composizione ci sta lo sfocato dietro mi piace l'unica cosa per cui non vado matto è come casca la luce su di lui perché ha la parte principale del viso che è più scura rispetto al braccio è più scura rispetto alla testa però ragazzi è street siamo in strada non si poteva illuminarlo è una foto fatta così alla veloce quindi secondo me va bene andiamo avanti questo mi piace questo mi piace perché secondo me questa è una foto scattata attraverso una vetrina per cui abbiamo questo bel signore un po' attempato con un elegantissimo cappello di paglia che sta probabilmente guardando la vetrina e quindi abbiamo questo contraltare tra un manichino e questo signore dietro e non è fortissima qui siamo tornati nello street che a me non fa impazzire però sono comunque contento che non ci sia bianco e nero sono comunque contento che le stiamo tenendo a colori questa espressione compiaciuta qualcosina ti racconta non saranno mai le mie foto preferite con la street non potrò mai dire che sono le mie preferite però c'è qualcosa mi racconta qualcosa in ogni caso quindi difficile da contestualizzare però mi rendo conto che c'è del pensiero dietro io quando vedo del pensiero non posso criticarvi più di tanto il pensiero c'è l'esecuzione è buona l'esposizione è buona la composizione è buona può non piacermi però io vi dico che ci sta andiamo avanti e probabilmente ci avevo preso con firendo ragazzi l'ho riconosciuta dal pavimento ma vi rendete conto allora qui siamo sempre nella street non mi fa impazzire questa ragazzi vi dico perché allora intanto la ragazza più vicina a noi ha il piedino che è quasi tagliato è proprio al pelo quello è un peccato è proprio attaccato al bordo è un peccato bastava un pelino più giù al massimo farla due fare due o tre scatti perché queste erano lì non stavano scappando via quindi secondo me il tempo di farne un'altra prendere un tempo migliore c'era e non capisco bene cosa sta succedendo cioè mi sembrano due persone che stanno bighellonando e affacciandosi a vedere però non capisco bene cosa fanno una cia dell'uva mi rendo conto che la street è tutta imperniata sul fatto di catturare delle scene di vita però a mio parere e lo dico da uno che la street non la ama a mio parere queste scene devono essere rappresentative di qualcosa in maniera più forte di questa perché io qui vedo due persone che non capisco se abitano lì non capisco se sono turiste non capisco se hanno fretta non capisco se stanno aspettando non capisco cosa fanno e quindi mi perde un po' il senso a me sembrano due persone che hanno la sindrome di Stendhal di fronte alla meravigliosa vista del fiume però non ne sono sicuro e quindi vorrei esserne sicuro e quindi se la foto fosse stata costruita in un altro modo in modo da darmi più certezze l'avrei sicuramente apprezzata di più andiamo avanti ecco vedete questa per esempio mi piace di più qui di nuovo abbiamo un'idea c'è uno smartphone sfocato in primo piano e c'è una foto un po' più forte sullo sfondo perché qui abbiamo un ragazzo con una maglietta dei Guns N'Roses quindi già ha vinto tutto perché ascolta buona musica di una volta che sta andando in bici in una condizione che definire precaria è un eufemismo con una fanciulla dietro che si tiene su non sa nemmeno lei come e questa mi racconta moltissimo invece peccato che c'è tutto quello spazio vuoto subito dietro di loro però di nuovo mi rendo conto questa non era possibile farla in più volte più scatti più tempi perché questi stavano andando quindi questa era difficile beccarla e va bene così la accettiamo così e va bene così sarei curioso di vedere come viene fuori se la rifiliamo verticale prendiamo solamente loro due sulle bici perché secondo me potrebbe anche essere più forte se prendiamo solo loro e togliamo questo smartphone che alla fine non mi dice granché perché non sta fotografando loro secondo me quindi sarei curioso di vedere la rifilata verticale potrebbe essere più forte andiamo avanti qui abbiamo una scena ecco questa di nuovo io sono contentissimo che siano a colori perché buttarla in bianco e nero secondo me nella street ormai le facciamo tutte uguali banalizza un po' invece a colori a me piace di più mi dice qualcosa di più questa però con un contrasto così poderoso perché abbiamo lei in controsole che viene verso lì noi con tutto il pavimento bruciato questa in bianco e nero secondo me veniva una fucilata bestiale sarei curioso di vedere come viene se rimuoviamo tutte le persone sullo sfondo sì lo so che è una magheggiata e adesso si fa con photoshop e con l'opzione rimuovi disturbo sarei curioso di vedere come viene giusto per curiosità e non è male bella la cosa di beccare lei a fuoco mentre sta andando con le persone dietro che rimangono un po' sfocate avrei preferito più sfocato cioè avrei voluto lei più isolata perché lei è molto presente nell'immagine per fortuna non è stata tagliata la sua ombra è essenziale quell'ombra secondo me per avere una gestione giusta dei contrasti l'immagine è buona mi piace io proverei a fare qualcosa in post per vedere come viene fuori perché secondo me si possono fare delle cose ci si può giocare di più con questa per poi magari scoprire invece che va bene così andiamo avanti qui siamo sempre nel portico qui siamo vicino agli uffizi e qui abbiamo di nuovo un ritratto di questa ragazza che sta passando attraverso il portico allora qui io forse sto dicendo una bestiata però questo questo quasi tono su tono del suo abbigliamento con il portico non sono sicuro se aggiunga o se tolga io quasi quasi e lo so che questo dicendo per qualcuno sto dicendo delle eresie però io sarei curioso di fare una selezione veloce e trasformare il colore dei suoi shorts e del top sarei curioso di farli diventare azzurri o verdi qualcosa che venga fuori maggiormente lo so che è un magheggio sarei curioso di vedere come viene per capire se viene fuori di più o di meno a me piace molto il fatto che sia dritta mi piace molto che le verticali sono dritte benissimo che ci sia lo sfocato l'esposizione è perfetta a livello compositivo non si poteva fare meglio di così di nuovo essendo street e non essendo io particolarmente amante io interpretando la street mi approccio a questa foto e mi domando ma che cosa mi deve raccontare è solo una ragazza che cammina e non mi racconta così tanto mi sembra veramente solo una ragazza che cammina e che attraversa il portico per quanto particolare possa essere la sua espressione magari aveva fretta però questo non mi arriva faccio fatica a percepirlo per cui tecnicamente buona però mi arriva poco andiamo avanti qui forse abbiamo le stesse ragazze di prima no no bestiata non sono le stesse di prima però siamo più o meno nella stessa zona questa mi piace però io questa la rifilerei quadrata in modo da tagliare fuori questi ragazzi che arrivano su quel lato perché sì è vero potrebbero stare aggiungendo qualcosa con il loro passaggio però io se metto la mano e li copro mi piace di più mi piace di più rifilata quadrata con solo queste due ragazze perché secondo me la loro espressione la sorpresa la curiosità che stanno mettendo in quello che stanno guardando sul telefono è già più che sufficiente a giustificare lo scatto senza bisogno di quei due ragazzi che sopra aggiungono che non mi stanno dando nessuna emozione in più io questa la rifilerei per il resto esposizione buona mi sembra di vedere che c'è un recupero perché qui siamo comunque sempre in controluce mi sembra di vedere un recupero anche piuttosto forte sui capelli delle ragazze che ci sta io forse l'avrei tenuto un po più tenue perché così è un po forte lo vedo proprio però globalmente ci sta andiamo avanti qui abbiamo un'altra foto ecco questo mi piace questo mi piace perché l'esposizione è magnifica così e loro due che stanno esattamente nel punto in cui c'è questo questo triangolo di luce quindi è tutto esposto giusto tranne il basso la parte in basso della strada questa secondo me funziona molto bene sarei stato curioso di vedere anche il passo dopo che hanno fatto perché sarebbero stati ancora più in luce lui non avrebbe avuto la mano mezza fuori ancora nell'ombra però siamo sempre lì è uno scatto complicato siamo in movimento e quindi non è facile da fare va bene così e di nuovo apprezzo molto che sia colori perché a me piacciono i cieli andiamo avanti questa non mi dispiace abbiamo questa quinta con queste piante che ci portano un po dentro nell'immagine abbiamo questa chiaramente turista un po arrabbiata forse le hanno perso la prenotazione se ne sta andando in giro col suo zaino espressione sicuramente particolare mi sembra di vedere un effetto orton chissà se è vero oppure no l'esposizione va bene questa funziona sicuramente funziona può come sempre può non piacere a me non entusiasma perché la street non l'amo però la foto funziona andiamo avanti io qui capisco l'intento questo muro da solo sarebbe stato così banale che non aveva senso fotografare il muro da solo questo lo capisco benissimo aggiungere questo ragazzo che passa sicuramente aggiunge qualcosa è un genere che io non ho mai capito fino in fondo quindi faccio fatica ad apprezzarla questa seppure mi rendo conto che è chiaramente fatto apposta il passaggio di questa persona e che è giusta probabilmente esattamente come il fotografo la voleva perché il naso non è tagliato lui è sfocato c'è addirittura un po di effetto movimento secondo me è tecnicamente perfetta il ragionamento che c'è dietro è buonissimo io faccio faccio molta fatica ad apprezzarla perché non amo questo genere andiamo avanti a vedere una roba del genere a me viene fame subito perché quando sono stato da quelle parti ho fatto di quelle mangiate allora in questo caso l'espressione del signore in basso a sinistra è molto significativa e questo frame secondo me funziona c'è qualcosa che non mi convince nella composizione nel senso che c'è tutto questo spazio vuoto a sinistra e invece non ce n'è proprio sulla destra io forse avrei centrato tutta la scena perché così mi sembra quello spazio vuoto lì non mi convince tantissimo io forse la rifilerei in qualche maniera per per far quadrare i conti però non è male perché comunque c'è tanto colore c'è questo signore con questa espressione sofferente perché comunque lì il sole picchia farà un caldo bestia e c'è anche volendo questo contrasto tra l'opulenza che c'è dietro e questo signore che sembra invece sofferente quindi ci sta questa non mi dispiace ci sta andiamo avanti qui abbiamo un ritratto allora ragazzi attenzione qui devo sollevare una piccola diatriba io ho un caro amico che lavora in televisione non facciamo nomi né cognomi e lui mi dice sempre quando fai inquadri una persona gli devi sempre lasciare cinque dita d'aria sopra la testa e lui su questa avrebbe sicuramente da ridire secondo me lui sbaglia perché i più grandi registi di tutto il mondo i primissimi piani li fanno quando vuoi portare fuori l'espressione di una persona il primissimo piano lo fai e se hai un attrice un attore bravissimo che sta piangendo sta facendo un'espressione della madonna è inutile prendergli quattro dita di aria sopra la testa è la sua espressione che devi guardare in questo momento in questo caso io qui non capisco cosa stesse succedendo però l'espressione non è male quindi non so chi sia questo signore però secondo me funziona un ritratto così ci sta la luce non è per niente malvagia andiamo avanti questa allora non è male però io qui faccio faccio fatica a entrare in sintonia perché non vedo cosa fa secondo me sta andando in bici però qua secondo me le mani bisognava inquadrarle non mi non mi piace particolarmente la sua espressione perché sembra sembra quasi che ci stia guardando male e ci può stare può essere un intento artistico però non mi piace particolarmente e non cioè non mi piace la sua espressione e non capisco cosa sta facendo potrebbe stare spingendo un carretto andando in bici e di nuovo se in una foto street io non capisco cosa sta succedendo non capisco cosa stanno facendo è una foto che secondo me è un'occasione un po mancata perché se non capisco cosa fanno vuol dire che in qualche maniera non mi arriva io avrei provato a farla in verticale magari questa perché ci sta è molto pittorica da un certo punto di vista ci sta però io avrei voluto tirare lui un po su per vedere cosa sta facendo e magari fargli fare un'espressione un po meno meno corrucciata e a quel punto ci sarebbe stata e sarebbe stata anche una gran bella foto il panneggio sul sulla sua camicia è molto bello però mi arriva poco perché non capisco cosa andiamo avanti qui abbiamo atterraggio del piccione con purtroppo il piccione sfocato e invece la bicicletta è a fuoco secondo me qui sarebbe stato meglio avere il piccione a fuoco perché obiettivamente questi pantaloni bianchi con la bici mi dicono poco e ce ne sono alcune che mi dicono poi questa forse è un'altra che io toglierei e lo so che nella street bisogna un po prendere quello che arriva però questa mi dice poco a me personalmente dice poco io non abito lì però mi dice veramente poco mi sembra veramente solo una persona che cammina con un piccione che atterra se ci fosse stato il focus sul piccione avrei apprezzato di più la fotografia naturalistica con la persona che a questo punto sarebbe stata un po sfocata dietro ditemi voi che cosa ne pensate parliamone giù nei commenti andiamo avanti questa mi piace ecco capite cosa intendevo prima questa mi piace di più perché questa è street intanto a colori e quindi io preferisco e poi questa è street dove lo capisco benissimo cosa stanno facendo capisco esattamente che cosa stanno facendo e dalla loro espressione capisco quasi cosa stanno pensando e questa secondo me è una fotografia street riuscita andiamo avanti qui invece abbiamo chiaramente un ritratto devo dire mi piace la luce mi sembra molto molto buona lei sta nella parte chiara quindi è come se fosse incorniciata dalla luce poi abbiamo la strada che ha una linea di fuga che mi porta l'occhio verso di lei molto riuscita e mi piace anche il fatto che non ci siano riflessi sui suoi occhiali questa potrebbe essere un'altra delle mie preferite portfolio di street io scelgo gli uni i ritratti sono le mie preferite e vabbè che cosa ci volete fare evidentemente la street proprio non è nelle mie corde ragazzi e questa era l'ultima foto di questo portfolio allora che dire devo dire attraverso tutte quante le foto che abbiamo visto oggi secondo me c'è una gestione dell'esposizione magistrale perché non ne ha cannata una magari le ha cannate ma me ne ha sottoposte solo giuste e questo già è indice di un po di testa perché se le sbagli e poi me le mandi pure io sono costretto a commentare dicendo che hai cannato quindi queste invece erano tutte giuste quindi già c'è del bel ragionamento dietro un po di mestiere c'è sicuramente perché i ritratti sono fatti molto bene le foto street la maggior parte delle volte hanno quel difettuccio che però è umano ma è un difettuccio che deriva probabilmente dal fatto che il fotografo ha fatto pum ha tirato su e ha scattato al volissimo quindi ci sta in realtà ci vuole anche tanta abitudine per fare cose del genere non vai lì e le fai al primo colpo ce ne sono un paio che io eliminerei come sempre e sono quelle di cui vi ho già parlato sono tutte quelle in cui non capisco che cosa sta succedendo o c'è qualcosa che mi disturba nello specifico se io in una foto street non capisco che cosa sta succedendo secondo me è una foto che non è venuta perché se attenzione io che sono l'autore mi ricordo cosa stava succedendo e quindi per me è ovvio ma uno quella guarda se la facciamo vedere alla zia ernesta lei non sa cosa stava succedendo e vi dice che è questo cosa stava succedendo che cosa stavano facendo e se la zia voi dovete pensare così se la zia ernesta capisce cosa stava succedendo è una foto della madonna è una bomba ed è venuta benissimo se la zia ernesta non capisce cosa sta succedendo e vi deve fare delle domande ripensateci provate a rifarla provate a ripetere l'esperimento perché se la zia ernesta non lo capisce molti altri non lo capiranno perché la zia ernesta non è stupida quindi se lei non la capisce vuol dire che molti potrebbero non capirla e quindi lì c'è da fare un po di ragionamento secondo me detto questo globalmente è un buon portfolio che funziona secondo me tolte quelle due o tre ma sapete che io devo trovarvene ogni volta due o tre un paio che eliminerei a questo punto amici vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti qual era la vostra preferita fatemi sapere se c'è qualcuna dove l'aveste fatto diversamente da quanto ho detto io vi ricordo se volete partecipare che basta mandarmi un link un messaggio privato su instagram con un link che non scade in questo caso era amazon photos che io apprezzo da matti perché con amazon photos le vediamo belle grandi non vi faccio letture su instagram se no poi uno è contento perché gli ho fatto la lettura da instagram e non ha dovuto fare fatica ma in centomila poi invece mi dite che si vedono piccolissime perché sono prese da instagram quindi non lo faccio quello abbiate pazienza vi ricordo a questo punto di iscrivervi perché così vi beccate tutti i prossimi episodi di questo format e se decidete di partecipare io non sembra ma vado a vedere chi è iscritto e chi no e chi è iscritto avrà la precedenza come è giusto perché chi non è iscritto poi magari se li perde anche gli episodi a questo punto ragazzi io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video a questo punto ragazzi io vi ringrazio come sempre di aver guardato un po' di